Una fatica durata 12 ore in questo Saturday Deep, alla fine abbiamo il vincitore Walter Kodaki. Walter, com'è andata? Sono stato un po' fortunato all'inizio, ho rubato abbastanza, dopo il tavolo finale ho fatto tanta azione, penso di averlo ucciso perché non ho vinto un piatto a quel punto, penso. Sì, abbiamo visto, hai dominato molto l'head up ma anche al tavolo finale ti sei presentato comunque da chip leader, avevi già messo le basi per una solida vittoria. Sì, anche lì ho vinto dei colpi fortunati, se non si ha fortuna non si vince anche, qui dopo un certo punto diventa anche un terno all'otto. Beh sì, 12 ore a girare sempre da sopra non è facile. Walter, tu hai giocato anche il main o ti sei dato solo? No, ho giocato anche il main, però non è andata male, proprio... non... lasciamo perdere. Va bene, però ti sei rifatto in questo side. Ultima domanda e poi ti lascio andare a dormire, le ESOP come ti sembrano? Beh, strutturato bene, questo torneo mi è piaciuto particolarmente, il main un po' di meno ma non per la struttura ma per il tipo di giocatori che ho trovato al tavolo perché papale e papale non passano mai con 70.000 di stack, però giudizio positivo. Bene, bene, allora ti salutiamo, ti mandiamo a dormire, ancora complimenti per questa vittoria. Grazie a tutti.